La delegazione trattante del Veneto è vicinissima a trovare l'accordo col Governo per firmare l'annunciata preintesa sull'autonomia. La svolta dopo le difficoltà delle scorse settimane è stata comunicata dal Governatore Luca Zaia alla consulta per l'autonomia riunitasi a Venezia in mattinata. Nell'ultima proposta del Governo sono state accolte quasi tutte le richieste di modifica presentate dalla Regione. L'ultima bozza che abbiamo in mano non parla più di spesa storica ma parla di superamento della spesa storica. E spesa storica vuol dire 22.000 forestali in Sicilia e 400 in Veneto. Fate un po' voi se può continuare così. Il Veneto la spunta anche su altri due punti ritenuti fondamentali dal Presidente della Regione. Con partecipazione su tributi e aliquote, quindi non solo su un tributo, e poi è fondamentale la Commissione Paritetica, ovvero avere una delegazione trattante che entra in Commissione Paritetica, come accade a Trento e Bolzano. Nel documento, come richiesto dal Veneto, vi sarà anche un riferimento al referendum del 22 ottobre. La nostra Regione, a differenza di altre realtà, va con un referendum importante, con oltre 2.400.000 Veneti che hanno votato, per cui la forza del referendum diventa anche pesante dal punto di vista giuridico e nella firma della bozza. Condivisione è stata espressa anche dalle altre due regioni coinvolte, Lombardia ed Emilia Romagna. L'obiettivo è di arrivare alla firma tra la fine di questa settimana e l'inizio della prossima, anche perché la legislatura ha ormai le ore contate. La firma non è mai scontata finché non si firma. Debo riconoscere che il lavoro fatto con il sottosegretario Bressa fino ad oggi è stato produttivo, è stato anche in un ambiente di serenità, con l'ottica anche di accogliere le istanze. Debo dire che se oggi c'è questa possibilità la si deve al Veneto, che ha marcato stretto e è arrivato alla settima bozza di Accordo. All'ottavo forse magari chiudiamo. Grazie. 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 Grazie.